I collaboratori di Ceciliano l'hanno ripartizzato il mercatino della ripartenza. Lo abbiamo fatto un po' più tardi perché l'altra parte anche prima non c'erano i permessi. Però appunto lo abbiamo voluto fare in modo che questo è il segnale della ripartenza. Dopo un anno da dimenticare, finalmente è tornato in presenza il mercatino dei ragazzi del Calcit con la prima uscita a case nuove di Ceciliano. Nonostante le temperature bollenti, numerosi gli espositori nel pieno rispetto delle misure anticontagio. Come sempre, tanta e varia anche la merce esposta dai giochi all'abbigliamento, dall'oggettistica alla bigiotteria. Il nostro impegno rimane immutato e anzi vogliamo coinvolgere sempre di più la città e lasciare comunque un'associazione solida in modo che duri nel tempo. La prima uscita del 2021 ha raggiunto un ottimo risultato. Il ricavato ammonta infatti a 5.100 euro, come sempre destinato al servizio scudo. Sono ormai 17 anni, è un servizio che è apprezzato da tutti e veramente le famiglie trovano un punto di riferimento in uno dei momenti più critici della nostra vita.